Calcio di punizione, occhio perché è una posizione interessante Si ripartirà con il corner Tepe, è il pallone, finisce il gol Giocata perfetta, quella che ha consentito al Real di trovare il gol Uno schema su palla inattiva che ha colto letteralmente di sorpresa il difenso dei Vassari Dove va solo spin